Amici di Milan.soccer ben ritrovati, ben ritrovati su questo canale, il canale dedicato alla prima squadra di Milano. Vi ricordo, prima di cominciare, avete visto la copertina, ne abbiamo da dire, ma prima, prima, prima vi do un piccolo indizio, guardate il colore della maglia, perché parleremo di questo colore. Vi ricordo, vi dicevo, di guardare, intanto di iscrivervi al canale, mi raccomando, stiamo arrivando a 16.000, se non ci siamo arrivati vorrei che foste voi, 16.000, e poi di mettere un like a questo video. Guardate in descrizione perché c'è il sito per poter scaricare musica copyright free, per i creator, chi vuole fare un po' di post particolari, con lo sconto che vedete in descrizione, 45%, pensate, 45% di sconto. Va bene, arriviamo subito alle questioni che riguardano il nostro amato Milan. Intanto sono felicissimo perché, perché, beh, stasera, stasera si torna a San Siro, si torna a San Siro, si torna a casa, bentornati a casa, Milan, beh no, più che a casa Milan, proprio a San Siro. Ancora condivisa con un inquilino sgradito, che si è piazzato lì da troppo tempo e pensa che quella sia anche casa sua, ma presto e molto volentieri ci faremo casa tutta nostra, per cui poi vedremo se loro riusciranno magari con del cartone a costruirsene uno per conto loro. Però noi in queste ore stiamo sottolineando i problemi che ha il Milan, ma non per fare disfattismo, perché dobbiamo risolvere quei piccoli dettagli, quei particolari che non ci fanno decollare, che comunque si insinuano come se nulla fosse, invece è tanto, nel quotidiano del nostro amato Milan, creando dei disagi e anche andando ad incidere non poco sui punteggi finali. Di cosa sto parlando? Beh, in pieno calciomercato, con la conclusione delle Olimpiadi, con mille notizie che riguardano questa squadra piuttosto che l'altra, piuttosto che l'altra ancora, di cosa parla la Gazzetta dello Sport? La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, mette Morata e Alice, la fine di un amore. Alvaro, decisione dolorosa, qui ci potremmo mettere, aspettate un attimo, una musica un po' così, sentite, drammatica. Sì, perché che Alvaro Murata si è lasciato con Alice, a tutta pagina, cioè lo capiamo che queste sono cose destabilizzanti per l'ambiente. Io l'ho voluto leggere l'articolo e me ne sono andato anche a leggere altri. È una separazione tra due coniugi ed è una cosa loro, privata, da persone molto intelligenti, molto intelligenti. La fine di un amore è sempre un dramma, però è una separazione consensuale. E la separazione giunge come un fulmine al ciel sereno. Alvaro Murata ha annunciato in una storia Instagram la fine del matrimonio con Alice Campello, dalla quale ha avuto quattro figli, con Alice che ha già modificato il suo profilo, cancellando il cognome di lui. Quando invece è una separazione consensuale, privata, una cosa loro, una storia loro che non ha nulla a che vedere con il calcio, nulla, se non la volontà di destabilizzare un ambiente prima ancora che questo vada a fare un esordio con la propria nuova squadra, con il suo entusiasmo di calciatore che dice mai nessuno mi ha voluto come il Milan. E quindi inizia una nuova storia d'amore. Ma noi dobbiamo occuparci di calcio, non dobbiamo occuparci delle questioni private delle persone. Non me ne frega niente quanti figli hanno, i loro nomi e con i loro anni di età. Sono questioni che non ci riguardano. E invece, dopo aver detto questo, e dopo aver detto che la Juventus va tutta su calulù, tutta su calulù. Adesso cominciamo, Gazzetta dello Sport? Vogliamo cominciare? Vogliamo rifare un'altra volta un focus dedicato al vostro giornalismo, al vostro modo di fare giornalismo? Noi non lo condividiamo. E voi risponderete, ma chi se ne frega. Ma noi però andiamo a dire alle persone che cosa state facendo. Perché non è possibile che io vada sul giornale online della Gazzetta dello Sport, dove si parla la Juve piomba su calulù, dialogo aperto con il Milan, i dettagli. D'accordo, va bene, è una notizia di calciomercato, è giusto darla. Ma guarda caso, è sempre una notizia di calciomercato che riguarda il Milan, è sempre in negativo. Quando ci sono quelle in positivo, invece voi non le date. E poi sotto, quattro articoli, quattro articoli sulla relazione tra Morata e sua moglie o sua ex moglie, non mi interessa. Morata e Alice, la fine di un amore. Alvaro, decisione dolorosa, lei continua in comprensione. E poi ancora, sotto, le foto più belle, Alvaro e Alice, c'eravamo tanto amati, le tappe della loro storia. Ma veramente fate? E poi ancora, e intanto lo spagnolo scopre il mondo Milan, il video del suo primo giorno in rosso-nero, con un volto triste, perché quindi lui è triste adesso per la separazione, quindi cos'è che andrà male con il Milan per questa ragione? E poi ancora, baci, Rolex, canzoni, lettere, veleni, storie di coppie del pallone finite in fumo. E io dico, no? Io dico, io dico, lo sanno le persone, o lo vado a riprendere un'altra volta, lo sanno le persone che voi siete sponsor ufficiale dell'Inter? Io non so se si può definire sponsor ufficiale dell'Inter, ma qui c'è scritto, allora, FC Inter, mi fa ribrezzo solo a doverlo digitare. Se voi andate sul sito dell'Inter, tra i partner, quindi con tanto di logo, c'è la gazzetta dello sport. Allora, caro Milan, devi risolverlo questo problema, devi risolvere il problema comunicazione, giornalismo, perché tu sui giornali non conti una beata niente. Conta, caspita se conta, caspita se conta il giudizio popolare, caspita se questi giocatori, altro che sono schermati, arriva tutto, arriva. I social sono pieni di questa notizia. E stasera c'è l'esordio, stasera c'è l'esordio. Che senso ha dare quattro notizie della separazione di Morata, il giorno in cui va ad esordire il Milan nel trofeo Berlusconi. Qual è il valore aggiunto? Guarda, arrivo anche a capire un altro giornale che non voglio citare, che ha messo tutta l'estate chiappe al vento. Ma questi sono i giornali sportivi di oggi? Voglio arrivare persino a dire, vabbè, magari, magari tira più che un carro di buoi. Io lo abborro, lo abborro perché ho rispetto totale per le donne. Quindi questa forma di utilizzo. Ma voglio arrivare a capirlo, non a giustificarlo. Un giornale sportivo deve parlare di sport. Comunque, con grande felicità, mi sto recando in quel di San Siro per andare a vedere Milan-Monza. Quindi tenetevi aggiornati su questo canale, attivate la campanella perché faremo una diretta da fuori lo stadio. Insomma, ci divertiamo un po' insieme e vi teniamo sempre aggiornati. Scusate lo sfogo, però mi sembra opportuno sottolineare come la campagna denigratoria di un partner ufficiale dell'Inter è cominciata. Ciao!